Ciao, piccoli amici! Sono Polly Pocket e con Shani e Laila vi do il bentornato nel mio vlog! Come potete vedere, siamo pronte per festeggiare Halloween! Travestimenti, dolcetti e brividi! Di solito facciamo dolcetto scherzetto insieme a Nicholas, ma per qualche strano motivo ha detto che quest'anno non può avvenire. E quindi noi tre abbiamo escogitato un nuovo piano! Vivremo un'avventura in viaggio super spaventosa! Potere Mini Polly! Allora, dove andiamo adesso? Al parco divertimenti! Sì! Potere Mini Viaggio! Certo, ora che il parco è deserto, c'è un'atmosfera davvero inquietante! Però io trovo che sia fantastico averlo tutto per noi! È vero! E sapete che cosa significa un neante file? Andiamo! Avete visto lì? Credo che sia passato un fantasma! Ti stai solo facendo influenzare dall'atmosfera spaventosa! Forza, facciamo un altro giro! Avete visto anche voi quella zucca? Forse non siamo soli come credevamo, dopo tutto! Molto strano! No, non può essere! Oltre a noi non c'è nessun altro qui! Che cos'era? Shani, avevi ragione! Il parco divertimenti deve essere stregato! Tutto questo è troppo spaventoso per me! Nicolás! Ci siete cascate! Ricordate lo scherzo che mi avete fatto lo scorso anno! Va via, va via, va via! Quest'anno lo scherzo è toccato a voi! Complimenti, Nicolás! Ci siamo cascati in pieno! In realtà, devo anche ringraziarti perché l'idea mi è venuta guardando il tuo vlog! Sì, ma come hai fatto ad arrivare qui? Beh, diciamo che potrebbe esserci lo zampino di tua nonna! Certo, ovvio! Grazie a lei, sono riuscita ad arrivare qui in anticipo e a organizzare tutto! Ok, Nicolás, è stato uno scherzo veramente epico! Ma il tempo degli scherzi è finito! È l'ora del divertimento! Questo è stato uno dei migliori Halloween di sempre! Sì! Buon Halloween, piccoli amici! Ci vediamo sul mio canale la prossima settimana per una nuova avventura in viaggio! Ciao! Ciao!